Questo è un ottimo esercizio se vuoi perdere tempo. Infatti di per sé lo slancio indietro è un ottimo esercizio, ma va fatto nel modo corretto. Quindi prima di tutto la posizione iniziale. Non è questa, quindi attenzione a non tenere la schiena in questo modo, ma tengo l'addome contratto e annullo la curva lombare. Gamba indietro e piede extra ruotato verso l'esterno in questo modo. Attenzione inoltre a non andare né troppo indietro e neanche troppo avanti. A questo punto salgo con il piede in extra rotazione esterna, tengo l'addome, un secondo di isometria e scendo. Perfetto. Attenzione inoltre a non aprirsi in questo modo, ma le anche rimangono in linea. Provalo e vedrai che lo sentirai molto di più.